. Universia di Taipei 2017, Tuffi, Arantxa Chavez or dai 3 metri. . Il trampolino da 3 metri parla messicano alle Universia di in corso di svolgimento a Taipei. Arantxa Chavez, 327.85, supera Schultz e Kim e conquista loro al termine di una bella finale. . . La Chavez balza al comando al quarto tuffo e confeziona due capolavori per ribaltare la graduatoria. Prima il triplo e mezzo avanti carpiato, poi il doppio e mezzo avanti con un avvitamento carpiato, gioielli che pilotano la messicana in vetta. . . La Schultz, al comando a lungo, si vede così beffata per una manciata di punti. L'epilogo è imperfetto, il sorpasso scritto. . . Senza medaglia l'Ucraina Kesar, per tre tuffi con l'argento al collo. Con la quinta piazza, occupata dalla canadese McCall, si scende sotto i 300 punti. . In precedenza, eliminatoria e semifinale della piattaforma maschile. Arambo è il primo a piazzare la stoccata, 455.75, una piccola imperfezione al primo balzo, poi una condotta impeccabile per regolare Dolgove e Bondar. . . Il rientro sulla piattaforma muta però le carte in tavola. Dinsmore saldi colpi e vola 471.55, firmando un perfetto doppio salto mortale e mezzo indietro con due avvitamenti e mezzo. . Kim è a circa 8 punti, Dolgove non perde quota. Scivola Vo, nono ed alterno. .